Se sei un'azienda di piccole o medie e grandi dimensioni, rivolgiti a WorkSolution. WorkSolution è uno studio di consulenza nel settore sicurezza del lavoro, ambiente, privacy e igiene degli alimenti. È un ente accreditato della Regione Marche per la formazione professionale continua. Ti aiutiamo ad adempiere agli obblighi cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente, monitorando tutti i fattori presenti mediante analisi di laboratorio e realizzando modelli organizzativi gestionali. Eroghiamo corsi di formazione validi su tutto il territorio nazionale in qualità di ente accreditato della Regione Marche. Ti accompagniamo nell'adeguamento e adempimento della privacy. Ti aiutiamo a rispettare gli obblighi di legge in materia di igiene alimentare.